Siamo nel Salone Metaurense della Prefettura di Pesaro per la presentazione di una iniziativa fortemente voluta da Confartigianato Pesaro e Ancona. Si tratta del portale Job Talent, è un portale informatico che metterà in connessione le imprese che hanno bisogno di cercare personale con chi invece è in ricerca del lavoro. Si tratta di un progetto davvero molto ampio che coinvolge le amministrazioni comunali e le scuole. L'obiettivo di questo portale è cercare di contribuire a risolvere il problema della difficoltà di reperimento di mano d'opera da parte delle imprese che è arrivato ormai quasi al 50%, quindi un'impresa su due oggi fa difficoltà a trovare personale. Noi vogliamo essere e costituire parte attiva insieme agli altri operatori del mercato del lavoro per contribuire a limitare questa criticità del mercato del lavoro. È un portale online di semplice consultazione sia per le imprese che per i lavoratori, di accesso gratuito per i lavoratori e in questo momento stiamo svolgendo un servizio gratuito anche per le imprese proprio nell'intento di essere utili al mercato del lavoro. L'impresa che vuole pubblicare un annuncio deve compilare un form di contatto, viene contattata dai nostri referenti territoriali per accogliere tutte le informazioni che servono per redigere l'annuncio nel modo più opportuno. E contemporaneamente alla pubblicazione dell'annuncio facciamo già una ricerca nella banca dati lavoratori per vedere se abbiamo lavoratori disponibili con i requisiti richiesti dall'azienda. Segnaliamo all'azienda solo i curricula di effettivo interesse, cioè rispondenti alle esigenze dell'impresa. Il lavoratore può registrarsi al portale per inserirsi nella banca dati in modo generico oppure può candidarsi per uno specifico annuncio. Automaticamente si candida anche nella banca dati. Nel portale sono presenti oltre 550 lavoratori, abbiamo gestito più di 250 richieste che sono sfociate in oltre 150 annunci per le mansioni più diversificate, sia impiegatizie che operaie. Il portale è già funzionante, stiamo già operando nella provincia di Ancona e in parte abbiamo già iniziato anche nella provincia di Pesaro Urbino, quindi operiamo su entrambe le province. La Confartigianato è molto attenta alle problematiche che vivono oggi le nostre imprese e la nostra comunità. Un tema che oggi è assolutamente attuale è quello del fabbisugno di personale. Le imprese in questo momento così complesso hanno necessità di collaboratori. Il Centro Studi di Confartigianato stima che tra febbraio ed aprile nelle Marche ci sarà un fabbisugno di circa 30.180 persone. E di questo c'è una grande difficoltà perché è stimato che il 50% delle imprese farà fatica a trovare questo tipo di personale, contro una media nazionale del 46%. E per questo come associazione non ci limitiamo ad evidenziare quelli che sono i problemi ma a cercare di trovare delle soluzioni. E da qui il portale è Job Talent.